Top and flop dei dati Outil di ieri, mercoledì 9 ottobre. Oggi torniamo ad occuparci dello scontro tra le reti generaliste ammiraglie. Questo perché dobbiamo segnalare l'ottimo risultato di Ray 1, che con il film Il diritto di contare, bellissima storia di integrazione razziale negli anni 50, dentro la NASA, con un gruppo di donne nere matematiche che hanno scalato le gerarchie della NASA, ma soprattutto di un'America ancora molto indietro da quel punto di vista. Il film è candidato a tre premi Oscar, quindi una scelta molto coraggiosa di Ray 1 che è stata premiata da quasi 4,4 milioni di spettatori. Quindi davvero per noi al top un ottimo risultato. Soprattutto se si considera che Canale 5 controprogrammava lo show Amici di Maria De Filippi versione Celebrities, quindi uno show di Maria De Filippi in prima serata così non saremmo aspettati un divario così ampio, perché Amici ha fatto 2 milioni e 7 quindi non ci aspettavamo un divario così ampio con un film su Ray 1. Quindi per noi al flop è inevitabilmente Amici sul Canale 5. Vi ricordiamo che tutti i dati audit e le curve degli ascolti di risera e le analisi le trovate sul sito tvzoom.it noi ci rivediamo domani.